Registo questo video sfogo da Bergamo. Caro Presidente Mattarella, caro Presidente del Consiglio Conte, le cose qua vanno male, ve ne siete resi conto. Vanno male per tanti motivi. E probabilmente quello più importante è che i governanti che a gennaio avevano ben chiaro che questa epidemia sarebbe arrivata non hanno avuto quella attenzione del buon padre di famiglia di prepararsi, di fare scorte di mascherine, di camici. Questo è ammissibile solo per persone che non abbiano la responsabilità di governare un paese e di tutelare la salute dei propri abitanti che è costituzionalmente garantita. Sono molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato perché ho visto alcuni politici che sono andati a fare degli aperi cena sui navigli e hanno consigliato di tenere aperto e di continuare a fare la propria vita nel momento in cui la situazione stava già degenerando queste stesse persone hanno ricevuto il tampone al primo segnale di difficoltà. Tampone che non è stato fatto ai sanitari asseriate a Mergamo. Non è stato fatto perché probabilmente metterli in malattia sarebbe un problema. Non è stato fatto nemmeno a tante delle persone che sono morte. E questo, per chi governa, dovrebbe essere un pensiero continuo, assillante. perché prima o poi questa cosa finirà e bisognerà fare i conti. Bisognerà fare i conti e capire chi ha dato qualcosa a questo paese. I medici, gli infermieri. La Croce Rossa. La protezione civile. Non nei suoi dirigenti, ma nei suoi operatori. le forze dell'ordine. Ora c'è un appello in televisione in questo momento che chiede a 300 medici di presentarsi volontariamente per affrontare questa che è una pandemia che uccide. E cosa gli propongono? Vitto alloggio, rimborso spese? Ma non vi vergognate? Non avete vergogna? Quando vi guardate allo specchio la mattina come fate a guardarvi in faccia e a non vergognarvi? I nostri rappresentanti del Parlamento i nostri parlamentari i nostri senatori dovrebbero devolvere totalmente il loro stipendio e devolvere totalmente i vitalizi che continuate a difendere con la scusa dei diritti acquisiti e il diritto acquisito è quello della salute dei vostri cittadini della possibilità di essere liberi di muoversi di avere una vita normale non di mantenervi e quando sento che volete lavorare un giorno alla settimana quando ci sono persone in ospedale che lavorano 24 ore su 24 mi viene da vomitare quando vedo i camion che portano via dal cimitero di Bergamo le salme per andarle a bruciare in altri comuni con i parenti che non possono fargli il funerale mi viene da vomitare quando sento persone di ogni schieramento di tutti che parlano di come gestire l'economia mi viene da vomitare mi auguro che fermiate tutto e che questa epidemia si fermi perché viene da piangere ogni volta che si guarda il giornale la mattina e mi auguro che questo video sia trasmesso e ritrasmesso perché sembra adesso che per il problema delle congestioni delle reti volete toglierci anche la possibilità di esprimerci e questo fa ancora più vergogna abbiate un po' di di stima per voi stessi devolvete il vostro stipendio a favore dei medici e degli infermieri che in questo momento stanno lavorando e campate anche voi con i 600 euro al mese che avete proposto per le partite IVA perché non si può chiedere a qualcuno di fare un sacrificio senza farlo in prima persona e adesso augurandovi ogni bene spero che questo video faccia il giro di tutta Italia perché la gente si deve rendere conto di cosa siete e vi chiederà conto la fine di questa cosa per ora un saluto a tutti in particolare ai bergamaschi tenete duro tenete duro ce la faremo finirà anche questa cosa ma poi ricordatevi ricordatevi di quello che hanno fatto ricordatevi di come si sono comportati buona giornata a tutti